Con la necessità di dover dirottare i medici di chirurgia generale, non solo loro, al pronto soccorso, a garantire una parte dei propri turni lavorativi in quella unità operativa, all'ospedale di Sciacca rischia di attivarsi un pericoloso effetto domino, con conseguenze concrete nei confronti del funzionamento delle sale operatorie. E ora, oltre agli interventi chirurgici programmatiche e causa Covid, avevano già subito un robusto ridimensionamento, rischiano di saltare perfino gli eventuali interventi urgenti. I turni notturni di guardia medica interdivisionale, che normalmente vengono garantiti dai medici di chirurgia e da quelli di urologia per eventuali emergenze, adesso possono essere osservati soltanto dagli urologi, i quali, al termine del turno osservato, hanno naturalmente il giusto diritto a godere del riposo. Stiamo parlando di reparti con dotazioni organiche assolutamente insufficienti, dove tutti non possono fare certamente tutto. Per come si sono messe le cose diventa così assai problematico poter garantire le sedute operatorie per gli interventi chirurgici urologici. Una coperta che dunque è diventata troppo corta, un'altra mazzata nei confronti di un'assistenza ospedaliera che induce a molte preoccupazioni. Tutto è stato generato dalla disposizione di servizio successiva alla richiesta abbonaria risultata senza esito ai medici di tutti i reparti a garantire turni aggiuntivi in area di emergenza, con la quale il direttore sanitario Gaetano Migliazzo ha deciso che i medici di medicina e quelli di chirurgia dovranno lavorare anche all'interno dell'area di emergenza. Servizio quest'ultimo costretto a funzionare con appena sette medici. I due nuovi innesti sono previsti solo a febbraio 2022. Nel frattempo si conta di risolvere il problema facendo lavorare al pronto soccorso i medici dei vari reparti. In sofferenza anche il pronto soccorso covid di Ribera che con appena tre medici non riesce a funzionare a dovere e anche lì è stata assunta una decisione che sta facendo discutere. Sono state sospese infatti le prestazioni ambulatoriali e le visite di endoscopia in chirurgia e i medici di quel reparto sono stati destinati a coprire giusto appunto i turni del pronto soccorso. Una decisione che ha visto intervenire duramente la Presidente della Commissione Salute dell'ARS, Margherita Larocca Ruvolo, che ha fatto sapere di intendere e chiedere al manager dell'ASP Mario Zappie ma anche all'assessore Ruggero Razza di porre rimedio a questa situazione perché non è accettabile togliere servizi e sospendere attività da tempo programmate con pazienti in lista d'attesa e anche per le urgenze. Per la parlamentare regionale è necessario anche per la situazione che si è venuta a determinare al pronto soccorso di Sciacca bandire subito i concorsi ma anche individuare eventuali incentivi o addirittura provare a richiamare in servizio i medici andati in pensione. Insomma la situazione è complicata, non è superfluo ricordare che non mancano soltanto i medici ma anche gli infermieri, anche gli operatori, i sociosanitari, anche altre figure professionali, il quadro che ne viene fuori è decisamente a tinte fosche ma non risale certamente a ieri, già anche prima dell'emergenza Covid le cose non andavano benissimo, l'emergenza Covid le ha soltanto aggravate e uno dei motivi per i quali è da considerarsi preoccupante l'eventuale nuova recrudescenza dei contagi di coronavirus è proprio perché gli ospedali sono diventati blindati, inaccessibili, con persone ricoverate che non possono essere assistite da nessun familiare, con numerose persone decedute in assoluta solitudine, senza nemmeno il conforto e la pietà di un volto amico.